Allora, qual è l'idea della stagione della popolazione? Quella con Braviona, un bambino che dice il momento di relazione. Questa è la pozzetta? Per parte di un libro. Il tema è il rapporto. Quindi un tema particolare per bambini di piccola età. Abbiamo dato un costumente per gli adulti, per spiegare ai bambini di 3 e 6 anni, e quindi quella fa parte proprio di una delle tavole che rappresenta poi l'accertazione di questo muto. E quindi la capacità di fare dei ricordi, qualcosa che devono costumere a dare mani. Quindi, insomma, è una delle più tenere, le risolutive del libro. Lei cosa ne pensa del festival in generale? In generale, la prima volta che partecipo, penso che sia una bellissima cosa vedere un sacco di giovani. Perché, insomma, non lo aspettavo. Normalmente quando si tratta di letteratura, non è così, ma diciamo che la regione ha sempre una scambola alti, no? Per cui questo mi ha sorpreso in positivo. E niente, insomma, adesso devo scoprire anche che cosa sarà questo festival per i prossimi giorni, per i prossimi giorni. Grazie a voi. Grazie.